Ma i Vigili del Fuoco spaccano sempre tutto? Ciao e bentornato nel mio canale, io sono Pietro Costanzo, ogni settimana qui su YouTube porto argomenti e personaggi curiosi attraverso le mie interviste. Ma i Vigili del Fuoco spaccano sempre tutto? Questa è una cosa che mi sono sempre chiesto perché guardando le serie televisive ogni volta prendono ad asciate, a pedate, distruggono sempre tutto. Ma è realmente così? Anche i pompieri italiani fanno in questo modo? Ne parliamo con Nicolo Agresta che è un Vigile del Fuoco di Roma. C'è questa immagine che noi abbiamo che il pompiere sfonda la porta. Allora quella in realtà è di derivazione americana quella scena. Anche questo ci differenzia tantissimo noi europei, noi italiani in primis, noi europei soprattutto dagli americani. Certo. Gli americani non costruendo tutte le case col cemento armato, ma costruendo tutto fatto di legno, buttando giù e ricostruendo come se non ci fosse un domani. I pompieri americani per esempio non si fanno problemi a sfondare una porta se devono entrare. È vero, è vero. Capito? In tutti i film o serie è così, o con l'accetta o con i piedi. Loro sfondano tutto quanto. In Italia per dirti, noi italiani, ma ripeto pure questo in realtà in Europa, ma io parlo per la nostra esperienza, noi tentiamo di fare il minor numero di danni possibili. Se ti sei perso qualche altro video puoi trovare tutte le interviste, tutte le chiacchierate che ho fatto a Nicolo Agresta sempre qua in descrizione, come ad esempio quanto lavora un Vigile del Fuoco. Ma i Vigili del Fuoco hanno paura? Che strumentazioni ci sono sui mezzi dei Vigili del Fuoco? Quanto pesa la loro divisa? Tantissimo. Cosa bisogna fare quando la tua macchina elettrica o il monopattino si incendiano? Trovi tutte le informazioni qua in descrizione. Lo sfondare per dirti una porta, cioè se c'è un soccorso, per esempio la persona sta chiusa in casa, no? E ha dato le mandate alla porta. Sì. Noi non è che sfondiamo la porta. Si prova a entrare dalla finestra. Eh certo. Si prova a forzarla alla finestra. Certo. Cioè non è che si spacca il vetro nella finestra e si entra così. Cioè rompere qualcosa deve essere l'ultimo espediente, l'ultima razio come si dice in questi casi. Certo, certo. Quindi il famoso pompiere che con l'accetta prende e sfonda qualsiasi cosa è una scena del passato un po' metaforica, ma in realtà non è che alla realtà dei fatti è così. Insomma diciamo che chi deve ovviamente creare queste serie TV o film in qualche modo deve creare azione. Vabbè certo, è chiaramente delle serie TV, in quelle poche serie TV perché comunque pure questo diciamolo, le serie TV o i film che raccontano i vincefoco sono molto poche. Sì comunque in quelle poche che ci sono ovviamente non fa tanta scena, no? Pompiere che con calma cerca di entrare, no? Arriba, spacca tutto ed entra. Mi raccomando se ti è piaciuto questo video ricordati ovviamente di mettere un bel like perché così almeno diciamo a YouTube che i video che porto ogni settimana sono di valore, sono di qualità e di conseguenza YouTube li farà vedere a sempre più persone. Insomma mi darai una mano anche tu a far crescere il canale. A proposito di questo se ti va iscriviti al canale perché così ovviamente potrai conoscere ogni settimana nuovi video, potrai ricevere le notifiche, anzi ricordati di cliccare sulla campanellina in modo tale appunto da ricevere nuove notifiche e di poter vedere subito i video che porto ogni settimana che ti ricordo essere interviste a personaggi e ovviamente alla scoperta di argomenti curiosi. Io sono un curioso di natura e se anche tu lo sei allora iscriviti al canale. Se poi vuoi entrare a far parte della mia community, l'ho detto malissimo, e se ti va di entrare a far parte della mia community allora troverai il link in descrizione del canale Telegram. Qui pubblico, anteprime, spoiler, insomma tutto quello che combino quando diciamo, insomma durante la pubblicazione dei video. Ecco tutto il lavoro che c'è per creare un nuovo video, per produrre un nuovo video. E soprattutto se questo video ti è piaciuto e pensi che sia utile a qualcuno, beh allora condividilo su Telegram, su Instagram, su WhatsApp, dove ti pare. L'importante è che spammi, 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 così mi aiuterai ancora una volta a far crescere il canale. Noi ci rivediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye! Noi ci rivediamo come sempre nel prossimo video.